Benvenuti a tutti, sono Armando Pisani, sono un insegnante di matematica e fisica e attualmente insegno al liceo scientifico e linguistico Michelangelo Bonarotti a Monfalcone e in questa raccolta, in questa playlist trovate le mie lezioni del corso di matematica che ho ottenuto presso il liceo classico Dante Alighieri a Gorizia nell'anno scolastico 2015-2016. Sono lezioni rivolte agli studenti di tutti e cinque gli anni, quindi c'è anche qui un abbondante mole di argomenti. Spero che vi siano utili per lo studio e per il ripasso. La registrazione delle lezioni e la loro rielaborazione per poterle caricare su YouTube è avvenuta grazie al lavoro del professore Enrique Canessa del Science Dissemination Unit del Centro di Fisica Teorica di Trieste che ringrazio assolutamente e quindi senza il suo lavoro questo non sarebbe stato possibile e vi auguro un buon ascolto, un buono studio e vi invito a iscrivervi al canale. Grazie a tutti, alla prossima!